Alle mie spalle sta atterrando un elicottero dell'aeronautica militare qui all'aeroporto di Fano. È un giorno particolare, un giorno in cui si celebra il centenario 1917-2017, 100 anni di storia qui all'aeroporto per una giornata intensa. Non c'è soltanto l'aeronautica militare, ci sono le pattuglie acrobatiche civili che sono volute essere qui presenti per questa giornata. Nove pattuglie provenienti da tutta Italia, oltre 150 aerei per questa giornata commemorativa dell'aeroporto Omiccioli. Sono presenti anche i parenti, gli unici, il nipote del pilota decorato caduto nella seconda guerra mondiale a cui l'aeroporto è dedicato. Una cerimonia densa di significato, non solo per celebrare il passato, ma anche per esprimere tutte le potenzialità che l'aeroporto di Fano e una struttura come questa possono rappresentare per la città. Presidente, allora una giornata impegnativa per tutte le maestranze dell'aeroporto, però di grande gioia perché un centenario va onorato nel migliore dei modi possibili. Assolutamente sì, oggi baciati anche da questo bellissimo tempo che ci aiuta sicuramente a festeggiare la giornata nel migliore dei modi. Abbiamo tante autorità in arrivo, abbiamo una bella scaletta di cose importanti da fare e da dire, quindi sicuramente una bella giornata condita come vedete alle mie spalle da tanti velivoli e tanti amici che ci vengono a trovare per questa bella ricorrenza. È il primo raduno delle pattuglie acrobatiche e civili, è un momento anche di condivisione con chi ama questa pratica, la pratica del volo sia per professione che per diletto, per capire quanto è importante che una città come Fano possa avere un aeroporto vivo e vitale. Sì, è fondamentale, questi ragazzi che vengono con i loro pattugli di formazione civili sono lo specchio di quello che si può fare in questo aeroporto e delle tante potenzialità che ha, espresse e inespresse. Quindi è importante che con l'aiuto di tutti e il supporto delle istituzioni facciamo crescere anche la parte inespressa che è tanta ed è bella da poter far emergere. Allora, una bella giornata per l'aeroporto, la storia di Fano che parla di questo posto e quindi è importante celebrarlo nel modo migliore. Assolutamente sì, oggi è una bellissima giornata, il tempo ci sta aiutando, gli aerei stanno arrivando, grazie anche all'aeroclub abbiamo organizzato questa bellissima giornata e spero che vada tutto bene. È una giornata anche in cui si ricorda naturalmente chi ha dato il nome a questo aeroporto ed è giusto che chi ha contribuito a questo luogo abbia il giusto merito? Assolutamente sì, infatti è imprevisto un programma, poi che non vi svelo, è proprio per ricordare chi ha inaugurato questo posto e che l'ha creato e non solo lui perché ci sono altri, ma questo poi lo vedremo più avanti. Ecco, l'aeroporto sta vivendo sicuramente una nuova fase, una fase di ripresa, ci sono buoni auspici perché questo luogo sia un luogo di tutta la comunità? Assolutamente sì, anche mi ripeto perché poi questo clima è in questo momento di collaborazione, di stima reciproca, in modo per far sì che questo posto diventi un posto per tutta la cittadinanza, non solo per tutti quelli che vogliono sfruttare di questo spettacolo che è l'aeroporto di Fano. Sindaco Fano si appresta a vivere una giornata o due con quella di domani, di grande emotività perché questo posto trasluda di storia, la storia di Fano è l'aeroporto e l'aeroporto è la storia di Fano. Cento anni non sono pochi, è l'aviosuperficie più longeva della nostra regione, ma è una storia importante da aviosuperficie militare in tempo di guerra, struttura per la protezione civile, struttura turistica ed è anche la struttura che ha fatto anche dibattere molto la città. Però oggi siamo consapevoli che è una fortuna avere una struttura come questa e che tanti magari ci invidiano e proprio dobbiamo partire da questo punto di vista, che abbiamo un gioiellino, dobbiamo valorizzarlo con le sue caratteristiche senza stravolgerle, sapendo che può portare un valore aggiunto, sapendo che sempre più questo spazio deve anche integrarsi con la città. E come sindaco mi piacerebbe che magari si tornasse come mi capitava da bambino, quando mio padre mi portava a vedere gli aerei che volavano, si tornasse magari a fare una passeggiata come si va al porto, si viene all'aeroporto. Detto questo, avere queste strutture significa anche creare un certo tipo di movimento. Non è un caso che questa città ha dato i Natali a tanti piloti, da valorosi piloti militari, non a caso la struttura è dedicata ad Enzo Micioli, che noi vorremmo estendere anche al fratello proprio per quello che hanno rappresentato, ma ci sono tanti altri piloti che sono stati valorosi e tanti oggi giovani piloti che hanno ruoli di responsabilità in giro per l'Italia, anche all'interno dell'aeronautica militare. Quindi orgoglioso di essere sindaco e di avere una struttura come questa. Allora, un momento sicuramente importante, il nome della sua famiglia è qui su questo aeroporto e lei ormai è l'unico della famiglia in vita, quindi ha la testimonianza di ciò che hanno fatto i suoi parenti da militari e da civili. Io posso dire che la città di Fano e tutti i fanesi debbano e possono essere orgogliosi di questi due fratelli, perché hanno sicuramente rappresentato nella loro vita come persone compiute, come persone di forte carattere, di forte umanità, che hanno sicuramente un punto di partenza per tanti giovani compresi, ma per quelli della mia età, sanno che ci sono questi valori della patria che sono rappresentati dagli atti di guerra e sono atti eroici. Quindi guidare degli aerei non è una cosa semplice, bisogna essere capaci, ma soprattutto se questi atti sono come quello di Enzo, in difesa di un aeroporto che gli inglesi stavano per mitragliare e lui era un acrobata, lui era definito l'acrobata perché col suo aereo faceva la guerra con l'acrobatia, atti lo facevano con la testa, lui era noto come l'acrobata. Suo fratello Walter ha avuto una vita diversa, è stato prigioniero in Africa, e dopo poi è tornato e ha fatto la sua vita da aviatore ed era anche lui un acrobata. Questa grande passione del volo è nata in questo aeroporto perché Enzo qui ha avuto il brevetto, Walter no, però trascinato dall'entusiano del fratello, sicuramente sono due grandi fanesi, io penso che la città debba veramente in questo momento li ha ricordati, insomma è un punto fermo questo che avrà il suo valore, che è importante. Grazie a tutti. Allora una risorsa importante per il territorio, per le marche, questo aeroporto Trasuda di Storia, cento anni di storia di Fano e delle Marche. Beh questa celebrazione, cento anni di storia dell'aeroporto di Fano sono sicuramente un bel traguardo, un traguardo importante per la struttura e un traguardo importante anche per la città. La prima cosa che vorrei dire è che grazie all'aeroporto è rimasta vergine un'area importante a ridosso della città che oggi potrà avere non solo la presenza dell'aeroporto ma anche lo sviluppo di un parco cittadino e sono sempre stato convinto che parco e aeroporto possano tranquillamente convivere. L'aeroporto è sicuramente una infrastruttura importante in un territorio perché noi abbiamo un territorio straordinario, quello della provincia di Peserurbino, quello delle Marche dove non solo c'è una presenza di imprenditori importanti, settori importanti ma a Fano abbiamo anche la cantieristica che sta piano piano riprendendo dopo la crisi, abbiamo un porto turistico. Quindi la presenza di un aeroporto, un'infrastruttura è sicuramente un'opportunità anche in chiave di sviluppo turistico, in chiave di visibilità per chi è in grado di arrivare con aerotaxi, piccoli aerei. Peserurbino trova sicuramente in questa infrastruttura un gioiellino che è importante per Fano, per la provincia ma direi per tutte le Marche. Poi abbiamo sempre detto che l'aeroporto di Fano non è assolutamente in concorrenza con Falconara, con Rimini che sono aeroporti che sviluppano il trasporto passeggeri. Peraltro sappiamo come sia in costante crescita il traffico aereo passeggeri e questo naturalmente ci deve dare la possibilità di mantenere questa struttura, vederla in prospettiva, farla sviluppare e considerarla un'opportunità per la città e per l'intero territorio. Allora insieme in compagnia del generale Molteni, rappresentanza dell'aeronautica militare dello Stato Maggiore, presente qui a Fano con un bellissimo mezzo, uno dei mezzi più moderni che ha a disposizione l'arma e anche un mezzo di addestramento con il sessantesimo storso. Quindi una grande amicizia quella che lega l'aeronautica militare all'aeroporto di Fano e anche lei personalmente so che ha degli addentellati in gioventù con questo ruolo. Sì, buongiorno a tutti, siamo intervenuti al compleanno dell'aeroporto di Fano con due mezzi che rappresentano due nostri stormi, il sessantesimo che ha il compito di promuovere l'aeronautica tra i giovani. L'aeronautica è un'armagione, ha bisogno ovviamente di nuova linfatitale, quindi dobbiamo idealmente passare il testimone della nostra passione che nasce con noi, come dicevamo un attimo fa con il mio intervistatore. E quindi questo storm ha questo specifico compito. L'altro invece, che è qui vicino a Cervia, si cerca il soccorso di personale che da qualche parte, a seguito di incidenti, si trova in posizione lontana, per cui vengono recuperati con questo e altri mezzi. Siamo distribuiti sul territorio nazionale, si fa soccorso sia in mare che su terra. L'uomo e il volo sono sempre andati di pari passo fin dalla preistoria, ma che cosa si prova quando si vuole imitare questa sensazione? Bella domanda, è difficilissimo da spiegare. Diciamo che è una passione che nasce in maniera inspiegabile, come spesso nascono delle attitudini particolari. Diciamo che c'è il dominio della terra vista dall'alto, la possibilità di muoversi rapidamente, velocemente. C'è la sensazione fisica del volo che è unica nel suo genere, perché assieme alla pesca subacquea, all'immersione subacquea, perché c'è una terza dimensione, che è quella della profondità o della quota, nella fattispecie del volo. Per cui c'è questa terza dimensione, questa possibilità di poter vedere il mondo dall'alto e questo rapporto particolare che si ha con il mezzo aereo, che è affascinante in quanto tale. Non ci sono spiegazioni razionali, come tutte le passioni sono passioni e basta. Trovare una razionalità è difficile, anche se la tecnologia dell'aeroplano è stata sempre molto avanti e ha dato tanto beneficio poi a tutti gli altri campi della tecnica, come tutti quanti noi sappiamo. Ci sono pieni esempi di sviluppi di tecnologia dovuti proprio allo sforzo che ha fatto il mondo aeronautico per mandare gli aeroplani in maniera sempre più efficiente ed efficace. Piloti militari si diventa o si nasce, secondo lei? Anche questa è una bella domanda, sono domande a trabocchetto, pensavo a domande più facili. Ma secondo me, come tutte le cose, ci vuole una potenzialità iniziale, ci vuole una passione, dopodiché ci sono le selezioni, ci sono i concorsi, non è facilissimo, però non è nemmeno impossibile. Per carità, anzi, io se posso, posso giustamente spingere i ragazzi, quelli che hanno una voglia di fare qualcosa di particolare, di specifico, oltre che trovare un'ottima professione, un'ottima professionalità, una formazione particolarmente accurata, che è tipico del nostro mondo, un'organizzazione schematica, ma che consente di esprimersi a pieno, ognuno di noi può trovare con ragionevole probabilità di riuscirci il proprio profilo di impiego. Parlo sia dei naviganti, sia dei tecnici, sia dei controllori, sia dei guidacaccia, sia dei missilisti, di quelli che fanno aeronautica, è una grande famiglia, il medico militare, il medico di stormo, quindi ci sono varie professionalità ed è un inquadramento in tutto sommato valido, sia con lo Stato, per lo Stato, servizio ai cittadini, se uno sente dentro di sé lo spirito di comunità, e lo spirito di una nazione, di una patria, della patria, che noi spesso chiamiamo paese, ma secondo me bisognerebbe chiamare patria, almeno di non essere smentiti da qualcuno, è una cosa che si può fare. Ovviamente in aeronautica come nelle altre forze armate, ovviamente ci mancherebbe. Le ho fatto questa domanda perché, non per volerla mettere in difficoltà, ma perché qui su questa pista hanno rullato i suoi colleghi del sessantesimo stormo che hanno avvicinato e affascinato 300 e passo studenti alla pratica del volo. Ecco perché, glielo ho detto, perché magari tra di loro hai visto mai che non è scoccata una scintilla solo per il fatto di essere saliti su un aeroplano. Assolutamente. Raccontavo un attimo fa dal palco la mia passione innata di quando avevo una decina d'anni, quando venne qui. L'aeronautica faceva dei voli, fa adesso dei voli, l'ha ripreso per fortuna dei voli di promozione nei confronti dei ragazzi e lo fa con dei mezzi molto semplici, economici, che sono impiegabili senza particolari problemi, non creano particolari problemi sotto un punto di vista, sono molto simili a quelli che utilizzano gli appassionati, che qui siamo pieni di ultraleggeri. Io stesso stamattina a dimostrare quanto l'aeronautica può essere vicina al mondo aeronautico sportivo o professionale, sono venuto con un ultraleggero, quindi più di così partendo da vicino Roma, non da un aeroporto militare e quindi questa è proprio la dimostrazione della passione che ci accomuna, che si deve però coniugare con la professionalità o con lo sport, nel caso del volo sportivo, con la professionalità del mondo di avversione civile o con lo spirito di servizio e di voler servire la prima patria nel caso dell'aeronautica militare. Il reparto volo della Polizia di Stato è impegnato in tantissimi scenari e sicuramente una presenza rassicurante quando vediamo i vostri mezzi sulle nostre teste. Il servizio aereo della Polizia di Stato è impegnato con 11 reparti, copre tutto il territorio nazionale e talvolta anche con missioni all'estero. Oggi partecipiamo a questa bellissima giornata, onoriamo la città di Fano, nel suo aeroporto con questa sua lunga storia. Purtroppo ancora il nostro elicottero non è arrivato perché è impegnato in un'attività operativa nella regione, ma lo aspettiamo, speriamo per pranzo, almeno speriamo per loro. Fano è una città ovviamente di rilievo per noi, per le nostre attenzioni di polizia e anche per quanto riguarda il nostro servizio aereo che ha due reparti confinanti perché abbiamo il terzo reparto volo di Bologna e noi che serviamo questo territorio. Normalmente noi immaginiamo l'attività di polizia per l'inseguimento, nel nostro lavoro c'è anche questo perché è il nostro core business. Però non mancano altri momenti importanti, oggi si è parlato molto di protezione civile visto che qui c'è un bel nucleo che si occupa di protezione civile e anche noi diamo il nostro contributo in quanto organo tecnico di protezione civile nel dispositivo nazionale e le nostre belle montagne dell'Appennino, Marchigiano e Abruzzese non mancano di darci da lavorare. Lavoriamo molto con gli amici del soccorso alpino, lavoriamo molto con gli amici della Croce Rossa i quali mettono a disposizione i loro tecnici di elisoccorso con i quali noi svolgiamo i nostri addestramenti per essere pronti poi in operazioni reali. operazioni reali che ci hanno visto impegnati nei recenti terremoti, nell'emergenza neve a termo, rigopiano e in tante altre pagine che la Polizia di Stato e insieme a tutti gli operatori del volo e della Polizia scrivono a servizio del nostro Paese. Spesso soprattutto nei momenti topici di grande esodo, sulle grandi arterie stradali nazionali, vediamo i vostri mezzi che sorvolano e che monitorizzano. Questa è un'attività sicuramente importante che rassicura un po' tutti, vedervi, sapervi al fianco dei noi cittadini rassicura molto per il vostro impegno. Sì, diciamo che noi si nasce da una costola della Polizia stradale e ancora ci occupiamo anche di Polizia stradale, però la remontalizzazione dei controlli, le telecamere, tanti altri sistemi ci hanno fatto diventare un po' inadeguati. In realtà oggi un settore su cui stiamo sviluppando molto il nostro impegno è la trasmissione delle immagini. La trasmissione delle immagini, pensiamo soltanto ai grandi eventi, pensiamo soltanto alla gestione della sicurezza, dell'ordine pubblico, le partite e il concetto di sicurezza in genere che necessariamente oggi passa attraverso l'immagine. E quindi i mezzi della Polizia di Stato sono stati dotati di telecamere di ultimissima generazione con sistema di trasmissione. Noi in qualsiasi momento da fa non possiamo trasmettere le nostre immagini sul tavolo del ministro degli interni e questa è una cosa che va anche al di là, dicevamo prima della vigilanza stradale, che facciamo anche, ma cerchiamo veramente di fare di tutto. L'entusiasmo non manca e negli anni abbiamo anche sviluppato una professionalità che ci ha portato a occuparsi di tutti gli scenari. L'entusiasmo non manca,